Non c'è più il Ministero dell'Innovazione, è un problema? Ne discutiamo qui. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e come ormai da 1162 puntate parliamo di tech, di innovazione in generale. Ormai da cinque anni faccio il punto con voi ogni singolo giorno, 365 puntate all'anno. Come sapete c'è una community, quella legata al Caffettino, caffettinoclub.it, che in questi giorni mi ha solleticato, pungolato, sollecitato in maniera privata e in maniera diciamo così non corale ma importante su questa riflessione. Mario, non c'è più il Ministero dell'Innovazione, è un problema, dobbiamo parlarne, perché non ne parli? Il nuovo governo diretto da Giorgia Meloni chiaramente ha fatto delle modifiche, alcune abbastanza pittoresche, come la sovranità alimentare, altre determinate chiaramente a un credo politico, quello che ha vinto le ultime elezioni. Però ci soffermiamo su questo Ministero dell'Innovazione. Ora, io ho un'opinione abbastanza decisa su queste cose, di norma non commento mai e non commenterò il come, chiaramente questo governo cercherà di fare innovazione, anche perché è appena partito, quindi non è il nome di un Ministero a convincermi o meno della bontà di un'azione. Ma è chiaro che è una direzione, una direzione che va verso l'accorpamento, la modificazione. E per cui, da questo punto di vista, se dovessi vedere, se arrivassi come un alieno sul pianeta Terra in Italia, direi wow, c'è un paese di questo tipo, che sicuramente lavora con l'innovazione da tantissimi anni, si ferma, si blocca e non lavora più da nessuna parte. Però, caro amico alieno, siamo un paese che non ha quasi fatto nulla negli ultimi vent'anni, trent'anni, quarant'anni nel mondo dell'innovazione. Quindi questo cambiamento non è che mi sorprende poi molto, non è che prima vivavamo di vacche grasse digitali. È un proseguo, quello italiano, nel distaccarsi dall'Europa, dal mondo. Chiaramente sappiamo che ci sono anche delle intenzioni concrete, ovvero il 27% dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, bruttissimo nome, PNRR, va al digitale. Chiaramente questo è un prestito, non sono soldini gratis che arrivano, li dovremo ridare. E quindi, quel 27% bisognerà capire come riusciremo a metterli in campo con dei progetti digitali. Però siamo anche un paese che ha, e l'abbiamo scoperto durante la pandemia, il 40% di famiglie del centro e del sud senza il computer, il 30% al nord. Siamo anche un paese senza banda larga, siamo anche un paese senza start-up, 16.000, pochissime rispetto ai 60.000, 80.000 di Germania, Inghilterra e via dicendo. Quindi in realtà non c'è da continuare con l'innovazione, c'è da cominciare. Un altro cambio di nome che potrei commentare, e non commenterò se non facendo un appunto, è quello del Ministero dell'Istruzione, che è diventato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ora, io sono stato sempre abbastanza chiaro sulle mie idee. La scuola non è un posto per trasformare dei bambini o per educare al mondo del lavoro. Non serve assolutamente a quello, serve a educare alla vita. Il lavoro è un'altra tipologia di step, chiaramente elementari, medie, medie superiori. L'università servirà eventualmente per posizionare le persone nel mondo del lavoro, al di là che poi è tutto un concetto totalmente superato, quello della scuola che prepara il lavoro, come se bastasse mettere le persone in azienda. Quindi, allora, amici, facciamo un punto, aspettiamo un paio di mesi, 60 giorni, 100 giorni, quello che volete, e poi commenterò uno e l'altro, l'innovazione e la scuola. Non cadiamo nel burrone della retorica, da una parte o dall'altra, nel commentare così, a babbo morto, a dichiarazione, a strillo sui giornali. Calma, sangue freddo, valutiamo come terzi. Non mi piace comunque, è chiaramente il merito come denominazione della scuola, ma voglio essere oggettivo, voglio essere terzo, voglio essere un cittadino libero di valutare su dati oggettivi. Vedremo, vedremo, e lì saremo cattivi. Belli rock, se qualcosa non andrà, non vi preoccupate, perché questo è il Caffettino Podcast. Cerco sempre di vedere le informazioni dal lato critico e magari non banale. Io sono Mario Moroni, buona giornata e ci vediamo domani.